Grazie a tutti 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 Un'altra volta tutti a destra Grazie Amore Grazie Alla tua destra Alla tua destra Thomas Thomas Grazie a tutti Angela 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 Alla tua destra Angela Angela Alla tua destra Tiziana a destra Tiziana a destra Tiziana 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 Brava di farlo Tiziana 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 a destra Tiziana a destra Tiziana a destra Giorgio Giorgio! 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 Lascia che squilli! Giorgio! 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 Claudia! Claudia! Perché io chiedo a nome di tutti! Grazie! Grazie! Da questa parte! Claudia! C'è un indag che si stanno incassivando! Mia mori! A noi! Claudia! Mia mori! Mia mori! Mia mori! Mia mori! Ecco così! Me la rifanno questa parte! Guarda questa! Ehi! Claudia! Claudia! Un saluto! Claudia! Anche a noi! Claudia! Claudia! Anche a noi! Claudia! Poi! Poi! Guarda! Poi!